Mario Super SC200 SCF carrello appositamente studiato per il trasporto di fotocopiatori e in grado di autocaricarsi nel furgone e anche il più piccolo della categoria il Mario Super SC200 SCF è gestibile da una sola persona permette di trasportare carichi fino a 250 kg e dotato di cinghia di ancoraggio ad attacchi rapidi ha una doppia impugnatura per permettere il trasporto in posizione eretta ha una velocità regolabile da 0 a 22 gradini al minuto con 3 ore di autonomia una batteria ricaricabile a 220 volt autobilanciamento del carico per non far gravare il peso sull'operatore ha gomme speciali antitraccia su qualsiasi superficie funziona su qualsiasi scala da quelle tradizionali a quelle a chiocciola o a piede d'oca la tradizionali a quelle a chiocciola o a piede d'oca in parole povere l'aiutante che hai sempre sognato non ci credi provalo gratuitamente a casa tua per qualsiasi tipo di informazione chiamaci allo 049 87 40 739